Un gran bel gol di Fabrizio Tirelli ha deciso l'anticipo di Serie D tra Città di Castello e Ostia Mare, con gli ospiti che sono riusciti a sbancare lo stadio Bernicchi grazie alla rete del classe 90 arrivata ad inizio ripresa. La formazione tifernata non è quindi riuscita a dare continuità ai propri risultati ed è incappata nella settima sconfitta stagionale mentre i laziali hanno riscattato le due sconfitte consecutive e ritrovato una vittoria che mancava dal 22 gennaio. Gara molto equilibrata fin dall'inizio con il Città di Castello che prova a sbloccarla al tredicesimo ma il colpo di testa di Mosti sulle suggerimento di Calderini sbatte sul corpo di Sbardella con Borrelli che blocca a terra la sfera. Duro colpo per i locali poco dopo la mezz'ora con Brunetti prima e Nannelli poi costretti ad abbandonare il terreno di gioco per due infortuni muscolari. Al loro posto in campo trovato è il secondo portiere genovese. Alle trentaseiesimo il Città di Castello costruisce la palla gol più nitida della sua partita con Doratiotto che slalomeggia sulla sinistra e poi serve Calderini che incrocia il destro ma trova la superparata di Borrelli che salva i suoi. Dall'altra parte alle trentanovesimo è Taviani a provarci ma Genovese si distende in tuffo e respinge le tentative del numero 20 dell'Ostiamare che ci riprova anche sei minuti più tardi ma il suo colpo di testa finisce alto sopra la traversa e così le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo con il risultato inchiudato sullo 0-0. Risultato che si sblocca ad inizio ripresa quando alle cinquantesimo Tirelli si inventa questo perfetto mancino da fuori aria che finisce la propria corsa all'angolino non lasciando scampa a Genovese. Palla in rete e Ostiamare che ritrova il gol dopo 286 minuti di digiuno e passa in vantaggio. Il Città di Castello prova ad affidarsi ai calci piazzati ma ne è trovato al minuto 67. Negorini al settantaduesimo riescono ad impensierire particolarmente un attento Borrelli. I Tifernati non riescono a reagire con lucidità e l'Ostiamare si difende con ordine senza rischiare nulla fino al minuto 97 quando arriva il triplice fischio dell'arbitro Daniele Orazietti di Michelino. Finisce così allo Stadio Bernicchi. Città di Castello 0-0. Ostiamare 1.